Le storie di sfruttamento e di violenza Ho chiamato, mi sono informato Ma hanno detto no, se volete potete scendere E sono scesa principalmente a Rossano Ho fatto il colloquio, ho fatto i primi due settimane di prova Per vedere com'è il lavoro Poi abbiamo patito il prezzo di 400 euro al mese E io sono rimasta perché comunque ti offrivano vita alloggio Allora sono rimasta Dopo un po' non mi pagavano E se io chiedo il soldi mi dicono no, devi aspettare 5 mesi Sai io ho investito, quello, quello, vabbè Passa un anno, cioè ti accorgi lì qualcosa non quadra Poi cominci a litigare, ti ribelli, litighi, litighi, litighi Poi ti dicono no ma devi avere pazienza che te lo diamo Fino a quando la famosa domenica mattina nel mese di giugno Ha cominciato il datore di lavoro No, tu ne te ne vi andai Ha detto guarda se tu non mi paghi io non vado via Perché non ho nessuno alle spalle Senza soldi dove vado in mezzo alla strada Mi sto corrisposto così E si è messo a picchiarmi Lui, la moglie E la mia collega, se si può dire collega E la mia collega Poi da lì mi hanno finito di picchiare Hanno preso le mie cose E mi hanno buttato alla stazione di Rossano E da lì io ho fatto la denuncia Poi meno male che ho fatto la denuncia Con la FLEI CGL e la CGL non sono rimasta da sola Bisogna dire anche questo Perché è fondamentale quando qualsiasi persona denuncia Che non rimanga da sola Se no nessuno denuncerà E questa denuncia ha dato vita anche ad un processo giudiziario? In questo momento la cosa è ancora in corso Visto che sappiamo i tempi in Italia dai tribunali Aspettiamo mentre moriamo Perché fisicamente ti alzi Ridi, scherzi, lavori Ti cerchi di impegnarsi il cervello Però quando sei da sola ci pensi E ci sono quei momenti dove hai voglia di spaccare tutto E dici cavolo, non me lo meritavo Però non puoi farci niente Devi aspettare la legge Allora stiamo ancora aspettando E adesso cosa fai tu? Adesso lavoro con la FLEI CGL E faccio anche la mediatrice culturale E do anche una mano ai miei connazionali immigrati Qui a Schiavonea C'è più di cento persone che vivono in un bosco Ok, va bene Uno sta a casa e dice Mamma come fa freddo A prescindere che c'è la stufa accesa O l'aria calda accesa Dice mamma fa freddo E immaginate qualcun altro che dorme fuori in un bosco Non c'è acqua, non c'è corrente Non c'è niente, un cavolo di niente E dorme lì in queste tende Non c'è niente Non c'è niente Ti senti come un arancio Quando la prendono Fai la spremuta bene E hai finito Che fai la butti Tanto un altro come te Se lo trovano così Allora c'è un giro Poi c'è il fatto che ci sono le femmine Vai a lavorare Uno ti dice No, cerco l'abadante Ok? Vai a fare l'abadante Se è un signor assieme Non è che ti chiama Perché vuole che tu vieni a lavorare E ti vuole perché ti vuole portare a letto Cioè Proprio come per dire Immigrato è uguale a quella che vive per strada Non è così Perché dipende dalla montagna Perché se tu ti fermi a un livello Dicono immigrato Ok, tutto quello che c'è è di brutto Io non dico di no Perché nessuno è santo Nessuno è perfetto Però prima di dire L'immigrato è ladro Dovano fare un esame di coscienza E cosa ti senti di dire A chi immigrata come te Giunge oggi in Italia Io gli posso dire due cose precise Qualsiasi posto siano Qualsiasi lavoro fanno Che lo facciano con onestà Con dignità Quando uno ti tratta male Lui se ne frega Ma lassù c'è qualcuno Che guarda ognuno di noi Tu mi puoi ammassare l'anima Perché il fatto Non è quando uno non ti paga Ma è ciò che produce in te Perché ti fa sentire come per dire Quando ho preso le botte Perché l'ho denunciato Perché io odio Il fatto che io devo pensare Che io sono una fallita Tu mi puoi sputare addosso Mi puoi camminare sopra E nessuno ti può fare niente Non accetto Perché le cicatrici Non sono passate Ma quelli che sono dentro Sono quelli che ti ammassano Allora ogni immigrato Ovunque sia Che faccia il suo lavoro Onestamente Senza robare un sintesmo E datore di lavoro Alla datrice di lavoro Per chi lavora in casa Perché prima o poi C'è Dio Che ci ripaga ciascuno Di qualsiasi cosa che facciamo Alla datrice di lavoro